Siamo qui all'Ermitage Lions Club per incontrare Barbara e Gianluca Gaudio che si occupano di arte via televisiva e Gianluca è diventato membro del Lions oggi. Puoi dirci qualche programma futuro qui nel Principato? Beh, è stato un grande piacere entrare quest'oggi all'interno del Lions Club Monaco quindi è stato un grande piacere questa mattina di essere diventato da l'Aioclipo e abbiamo il piacere di lavorare insieme anche con la scena che abbiamo qui abbiamo a Monaco della Boxe Monaco Telecom dove vendiamo gli overi d'arte ma anche la comunicazione deluxe e soprattutto per la prossima settimana sarà un grande piacere di avere qui a Monaco in un'esposizione excepzione, questa sarà l'Expo d'Elite au Grimaldi Forum Caravaggio, le Pouvoir della Lumière Ah, il potere della Lumière, Caravaggio, ottimo! Quindi da Udine voi portate questa mostra bellissima al Grimaldi Forum Esattamente E sì, non sono due langues, même trois langues ma là l'italiano-francese è già ottimo Gianluca Barbara vi trovo veramente splendidi Ditemi che cosa provate a essere, cioè avere il tuo marito Barbara un Lions di Monaco È una grande emozione E sicuramente per te come è stato questo incontro? Sì, molto meglio, e poi sicuramente uno scambio di, diciamo, piacere e una sinergia una sinergia con il club per poter sviluppare al meglio tutte le attività che è nel corso dell'anno Ecco, vi chiedo ancora due puntualizzazioni Quali sono le vostre due televisioni? Allora, il canale si chiama TV Art Live Il principale della box Monaco Telecom è il numero 262 Lax TV E il Teos che cos'è? Teos è una piattaforma televisiva online che si occupa di arte e di lusso Fantastico, quindi noi abbiamo già tre cose da comunicare Vi ringrazio infinitamente Grazie Gianluca e grazie Barbara Grazie